Buongiorno amici di Prati, oggi ci troviamo in via Fabio Massimo per una pausa caffè e chiaramente un caffè speciale, quello di Sciascia Caffè, un tempio per il caffè in Prati aperto addirittura al 1919, un'istituzione come dicevo soprattutto per il suo speciale caffè al cioccolato, andiamo! Buonasera, grazie a lei, una buonasera, uno al cioccolato qui e poi uno a portar via al fuori, si grazie, buonasera, ecco la preparazione, famoso caffè di Sciascia con un po' di cioccolato, come vedete, per la messa, se viene formato un fiore, il locale come vedete è storico, e anche le foto attestano, questo è il suo al cioccolato? Sì, il mio al cioccolato, grazie. Il mio al cioccolato è un tempio per il caffè. Grazie. Grazie.